Quello che ha fatto Mario Draghi per l'Europa è un valore grandissimo che si giudica da solo. L'Italia ha condiviso con tutti gli altri paesi il sostegno a De Gindos. Se questo sarà un attacco all'indipendenza lo vedremo nei fatti, non vedo perché la nomina di De Gindos che dal punto di vista personale ha tutti i requisiti per essere membro del board della BCE sia un attacco all'indipendenza. Non discuto il curriculum di De Gindos né discuto il curriculum dei miei colleghi ministri e membri dell'Eurogruppo se no dovrei fare delle eccezioni. Io conosco De Gindos da quello che lui fa come membro dell'Eurogruppo e fino adesso malgrado, tanto per essere chiari, essere appartenuti o appartenere a due famiglie politiche diverse questo è un fatto esplicito. Molto spesso ci siamo trovati d'accordo nel difendere l'integrità dell'Eurogruppo e sostenere gli interessi dei virgolette paesi del Mediterraneo.